Buongiorno, questa comunicazione di TV Popolare la facciamo così, verbale, per fare prima essere più chiari. Allora, piccolo resoconto di quello che sta succedendo, stiamo lavorando molto, sempre da volontari, ovviamente siamo pochi, ma siamo ottimisti e soprattutto ci mettiamo molta passione perché pensiamo realmente che TV Popolare sarà un'alternativa più che utile, anzi necessaria proprio. Stiamo creando una rete di collaboratori, di associazioni e di soci che si stanno già avvicinando, di cui siamo veramente molto contenti, quindi va tutto bene, tra poco faremo la promozione vera e propria, ovvero cercheremo di spammare ovunque il verbo di TV Popolare, andando anche in trasmissioni radiofoniche, televisive, giornali e quant'altro. Anzi, se avete delle possibilità, vi prego, datecele, scambiatele con noi, noi abbiamo già molti contatti, ovviamente anche uffici stampa importante, ma più ce n'è meglio è, come sempre, partecipazione al 100%. Come sapete tutti, TV Popolare sarà regolata dalla democrazia diretta, ovvero i soci avranno la possibilità di prendere tutte le decisioni su qualunque campo, cercheremo di stringere, non è che tutto quanto, ma anche su programmi TV, sul palinsesto, attraverso dei referendum. Quindi i soci saranno anche i, chiamiamoli per semplificare, i padroni, i direttori della TV. Per il momento ci sono 429 soci, che ringraziamo e salutiamo, ed è a loro che mi riferisco, perché in questa occasione lancieremo, sto proponendovi due referendum. Il primo riguarda la modalità di pagamento, nel senso i 429 soci che hanno già aderito hanno già pagato 25 euro per associarsi a TV Popolare. Ci siamo resi conto che però questa modalità rallenta molto l'associazione, ovvero 25 euro alla fine sono quelli che uno si spende in una sera in birreria, però giustamente sono 25 euro e quindi sono sempre soldi. Ci siamo però resi conto che una promessa di pagamento potrebbe snellire questo meccanismo, ovvero utilizzare proprio il sistema classico del crowdfunding, cioè i soldi arriveranno solo nel momento in cui il ventimillesimo socio avrà aderito a TV Popolare. Prima non c'è un vero esborso, è molto semplice. La promessa verrà mantenuta solo in quel momento, quindi chiediamo a tutti i soci che hanno già pagato, quindi hanno già messo i propri soldi, se secondo loro possiamo utilizzare questo metodo che crediamo che faciliti le cose, soprattutto nel momento in cui andremo a parlare alla massa facendo promozione, quindi si fa molto più in fretta a fare una promessa di pagamento piuttosto che prendere la carta di credito e fare tutte le varie operazioni. Quindi questo è il primo. Il secondo riguarda invece i soldi che avete già messo, quindi siamo a 10.725 euro che in questo momento sono in un conto vincolato, ma la promozione ha un costo. In questo momento noi lavoriamo da volontari, anzi spesso paghiamo di tasca nostra, però stanno lavorando con noi o abbiamo chiamato a lavorare con noi dei professionisti che a un certo punto vorranno anche essere, non dico pagati in pieno perché anche loro sposano la causa, ma un minimo di remunerazione la vorranno. Quindi il secondo referendum, come anche ci è stato segnalato da molti soci che ci hanno mandato delle email, chiede se possiamo utilizzare questi soldi che sono in questo conto. Ovviamente il bilancio sarà completamente trasparente, sul sito ci sarà una sezione apposta dove si vedrà spesa per spesa, tutte proprio, tutte, anche la penna vi scriveremo, però abbiamo bisogno di questi soldi, ovviamente solo se voi voterete sì. Basta, siamo speranzosi, aiutateci il più possibile, continuate a collaborare se potete perché è fondamentale e alla prossima, ciao!